Grazie Presidente. Ovviamente prendiamo atto di questa risposta del Governo e ringraziamo il Sottosegretario Mantovano per averci messo la faccia al posto di chi, ovviamente, per ragioni di evidente difficoltà, non riesce a venire in Aula a spiegare le ragioni di queste nomine. Mi riferisco ovviamente alla Ministra Calderone, perché guardi, Sottosegretario Mantovano, siamo di fronte al caso in cui è quasi, anzi diciamo che è veramente impossibile garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, quando la moglie, in questo caso la Ministra Calderone, deve garantire questa imparzialità, questo buon andamento, il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, facendo cosa? Controllando l'operato del marito che si trova al vertice del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. E la Ministra Calderone controlla l'attività, appunto, del Consiglio Nazionale dell'Ordine, secondo la legge. Lei conosce sicuramente bene le leggi e saprà che è in capo al Ministro del Lavoro il compito di vigilare sull'andamento e sul buon funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Ecco, in tutti i Paesi in cui è in vigore una legge sul conflitto di interesse degna di tale nome, tutto ciò non potrebbe succedere. In Italia purtroppo è da anni che manca una legislazione seria di contrasto e di prevenzione del conflitto di interessi e noi, come Movimento 5 Stelle, questo lo diciamo da sempre e siamo l'unica forza politica che crede che ci sia la massima urgenza, perché questi sono casi che fanno perdere di credibilità alle istituzioni, che fanno allontanare i cittadini dalla politica, ne impediscono la partecipazione, perché il cittadino si aspetta dallo Stato e il buon esempio. Ecco, Sottosegretario Mantovano, è questo che abbiamo bisogno in Italia, di buoni esempi e questo non è sicuramente un caso di buon esempio, perché come si fa a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione in un caso del genere? Poi lei ha richiamato il Sottosegretario di Rigoni dicendo che queste deleghe spettano a lui, ma cosa c'entra? Il potere di controllo e l'attività di controllo spetta sempre in capo al Ministro del Lavoro, quindi anche questa cosa non capiamo cosa significhi. Diciamocelo chiaramente, Sottosegretario, veramente in Italia abbiamo bisogno, c'è questa emergenza del conflitto di interesse. Voi non sapete ancora veramente che pesci prendere anche su questo, ma al di là di questo ci sono, al di là del vulnus legislativo, di questa carenza legislativa da colmare, c'è sicuramente una questione morale, una questione di opportunità, una questione di valutazione politica. Come si può nominare a capo, a vertice del Consiglio Nazionale, dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il marito e anzi ricordiamo che anche la stessa Ministra Calderone ricopriva questa carica prima di entrare nella compaggine governativa. E poi c'è un altro caso, l'Avvocato della Fondazione Studi che lavora per il marito della Calderone è segretario della Ministra Calderone al Ministero di Via Veneto, al Ministero del Lavoro. Cioè siamo veramente nel caso di un family gate e voi continuate a metterci una pezza, ma la pezza è peggio del buco. Voi di fronte a questo sarete chiamati alla responsabilità, di fronte ai cittadini, perché i cittadini sono stanchi di questo modo di fare, della politica, del familiarismo, del clientelismo. Lei è venuto qui citando anche il parere dell'ANAC, ovviamente di cui noi prendiamo atto, il fatto che esistono dei collegi dei revisori che ovviamente hanno responsabilità sul controllo delle spese. Ma questo lo sappiamo, lo stabilisce la legge. Ma c'è una questione morale, c'è una questione politica sulla quale voi continuate a nascondervi, sulla quale voi continuate a non rispondere. E i cittadini si aspettano risposte e noi ci aspettiamo delle risposte serie e concrete. E anche delle azioni concrete, perché sono delle valutazioni inopportune. Quindi su questo sicuramente torneremo in aula a chiedervi spiegazioni, torneremo a spiegare la questione, la gravità della questione ai cittadini e inchioderemo il Governo alle proprie responsabilità. Grazie.